Fiamme al monte Bonifato di Alcamo urge dare un volto e un nome allo scellerato autore. Per voi il servizio realizzato sul posto dal collega Eros Bonomo. Fuoco sul monte Bonifato, i primi giorni di indignazione, di irrabbia. Poi ha tenuto banco una polemica, se prerriserva o riserva quello che ha preso a fuoco. Ma ad oggi ben poco serve, perché comunque quelle fiamme hanno distrutto vegetazione, hanno distrutto quello che ci dà respiro. E poi hanno messo a rischio case, persone, perché è arrivato vicino al centro abitato. Quindi la polemica va bene, ma qua bisogna arrivare alla verità. A chi è stato, se dietro c'è una strategia, se è stato incuria di qualcuno, se è stata incuria la parte amministrativa burocratica. Infatti la polemica è anche sull'ex provincia. Ma ritorniamo a dire, l'indignazione deve continuare. Perché qua non c'è una verità di parte. Qua ci vuole una verità oggettiva. Abbiamo visto molte volte, anzi più delle volte, che non c'è stato qualcuno che ha pagato questo scempio. E quindi pensiamoci bene, perché mettiamo a rischio la natura, quindi la nostra salute. Mettiamo a rischio la gente, le case della gente. Mettiamo a rischio i lavoratori, che siano guardie forestali, che siano vigili del fuoco, croce rossa, associazioni di volontariato. Polizia Municipale, tutti, siamo tutti a rischio. E quindi, che sia fatta verità. Dobbiamo ricordare che il Monte Bonifato ogni anno, tranne il periodo di pandemia, è stato oggetto anche di cose positive. Come associazioni che si occupano della pulizia, che sia della parte archeologica e non. E c'è l'impegno di tutti. Ma bisogna anche ricordare che nella montagna non c'è solo il fuoco, ma c'è anche l'immondizia che viene gettata così indiscriminatamente. Ci vuole delle camere, ci vuole comunque un controllo più serrato per questo monte, che per gli alcamesi è il proprio cuore e la propria anima.